Lasciatisi alle spalle i turbamenti e gli effetti collaterali del caso Dià, esplosa d'udile dopo una lunga gestazione, ora Fabio Oliverani spera di avere finalmente uno spogliatoio più concentrato ed unito. Il tecnico si è fatto sentire l'intervento in prima persona del presidente di Revolino e servito anche a rafforzare la sua presa di posizione, spessa già a caldo, in Friuli. L'obiettivo è svoltare nella mentalità, nell'approccio quotidiano nel modo di intendere il concetto di gruppo. Inzaghi aveva fatto passi avanzi sotto questo aspetto, ma evidentemente la lunga parentesi del mercato invernale ha riportato a galla malcontenti e rivendicazioni che la mancanza di un uomo forte sul campo, di una figura dirigenziale di spicco che potesse rappresentare senza filtri la proprietà, è stata pagata a caro prezzo. L'ennesimo tentativo di ripartenza di una stagione per tanti aspetti surreale concide con la gara di Cagliari, ex squadra di Verani che in Sardegna fu sostituito da Ranieri. 9 punti separano le due formazioni e certo per la Sardegna la situazione non è rosa e ne è comoda. Per alimentare la flebile fiammella della speranza va da sé che occorrebbe un colpo da 3 punti sull'isola. Li Verani avrà a disposizione Fazio e Pirola, ma non Pierozzi e Boateng, da valutare le risposte che darà Manolas sul piano fisico in questi giorni. Restano in pre-allarme Pasalidis e Pellegrino. Ci sarebbe in teoria anche abbondanza di uomini per varare un reparto con 3 centrali e dare più libertà sulle corsie a Zanoli e a Bradaric. La sensazione è che in difesa alla fine si insisterà sulla linea 4, presupposto quasi indispensabile per potersi avvalere di un centrocampista in più. Maggiore sarà il vertice basso, Basic da spazi offerti da una squadra che era in 10. Dall'inizio a Cagliari ovviamente tutto cambierebbe, ma certe attitudini dei singoli prescindono dal contesto e data la situazione da spalle al muro, Li Verani sa che deve mettere in campo una squadra che abbia più frecce possibili da scoccare. Gomis sembra in ballottaggio con Kulibali e sembra in corsia di sorpasso. Sulla tre quarti invece Cassano si è stato allertato perché potrebbe essere schierato dall'inizio insieme a Candrebo al suo posto. Li verrà in valuta per opzioni ma vorrebbe dare continuità al tandem offensivo composto da Channel Weisman, ragion per cui sulla tre quarti potrebbe essere staffetta.